buongiorno a tutti e benvenuti siamo qui con il vice direttore della tecnica della scuola reginaldo palermo per parlare di alcune questioni importanti per il mondo della scuola iniziamo dal rinnovo della parte normativa del contratto scuola professore le chiedo a che punto è la vicenda contrattuale allora la vicenda contrattuale per quanto abbiamo letto dai diversi comunicati sindacali e a questo punto per quanto concerne gli aspetti economici dovrebbe essere tutto chiuso perché si è trovato un accordo su come utilizzare gli ultimi spiccioli diciamo che ancora erano a disposizione e su come distribuire soprattutto i 220 milioni di euro che inizialmente erano destinati alla valorizzazione della professionalità docente alla fine di tutto quindi avremo questa situazione che tutte le risorse ancora disponibili saranno distribuite fra tutte le diverse categorie del personale quindi docenti personaleata e in sostanza a ogni dipendente toccheranno altri 12 15 16 17 euro a seconda poi anche della diversa anzianità di servizio che si sommeranno a quelli già distribuiti nel mese di dicembre anche su questa parte ovviamente spetterà una piccola quota di arretrati questo per quanto concerne appunto gli aspetti economici per quanto riguarda gli aspetti normativi diciamo che c'è ancora questo nodo che difficilmente si riuscirà a sciogliere che riguarda la questione del codice disciplinare dei docenti sulle altre questioni invece sembra che un accordo si stia raggiungendo le parti sociali sono soddisfatte anzi di quello che sono riusciti ad ottenere perché in concreto ci saranno dei miglioramenti di trattamento soprattutto per il personale precario quindi anche al personale precario saranno come dire riconosciuti alcuni diritti che oggi sono soltanto del personale a tempo indeterminato quindi i sindacati tutti quanti dicono che questo è un buon risultato e che è apprezzabile diciamo lo sforzo fatto dall'amministrazione per trovare un punto d'incontro su questo quindi questo vuol dire che si firmerà il contratto ma insomma le firme dei contratti sono sempre un po dei terni all'otto cioè fino a che non c'è la firma è sempre difficile dire quello che ci quello che succede quello che può succedere noi stiamo però ai fatti e stiamo anche alle dichiarazioni le parti si stanno avvicinando il presidente dell'Aran Nadeo proprio pochi giorni fa ha detto che lui conta di chiudere la trattativa durante il mese di giugno teniamo conto che la scuola è l'unico comparto che non ha ancora chiuso il contratto gli altri comparti lo hanno chiuso già da tempo risolti tutti questi nodi quindi è abbastanza probabile per non dire quasi sicuro che entro il mese di giugno o al massimo proprio ai primi di luglio quindi in ogni caso prima della pausa estiva il contratto verrà firmato poi a quali condizioni ovviamente è ancora difficile dirlo perché è sempre bene aspettare le ultime ore per capire che cosa succede professore il contratto scuola non è l'unico contratto di cui si discute in questi giorni giusto certo si sta parlando anche del contratto integrativo per la mobilità annuale cioè utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su questo diciamo che le posizioni al momento attuale sembrano abbastanza distanti perché giustamente dal loro punto di vista i sindacati mirano alla cancellazione totale di tutti i vincoli che ancora che ancora ci sono l'amministrazione fa come dire osservare fa notare che i vincoli sono espressamente previsti dalla legge e quindi è un po difficile con il contratto superare questi vincoli c'è chi da parte sindacale come per esempio la will dice potremmo però fare un contratto come dire di proroga del precedente che prevedeva appunto il superamento di alcuni vincoli vedremo che cosa succederà nelle prossime ore certo che la situazione è molto difficile molto complicata e quindi fare delle previsioni su come finirà il contratto integrativo sulla mobilità annuale credo che al momento attuale sia un po difficile quindi non ci resta che aspettare quello che succederà nei prossimi incontri quindi al momento non ci sono delle tempistiche certo ovviamente neanche in questo caso diciamo che le tempistiche sono dettate anche però dalla esigenza di chiudere il contratto in tempi utili per poter effettivamente procedere alle operazioni cioè non si può firmare il contratto sulla mobilità annuale nel mese di agosto ovviamente cioè il contratto va firmato in tempo utile per consentire poi alle persone agli insegnanti al personale ATA di fare comunque la domanda alle condizioni previste dal contratto e dalle leggi quindi in ogni caso io credo che entro la metà di giugno anche questo contratto dovrà essere concluso ok ok quindi a giugno dovrebbero essere conclusi entrambi entrambi questi contratti bene grazie al professor reginaldo palermo vice direttore della tecnica della scuola per queste risposte e vi ricordo che per qualsiasi aggiornamento su queste questioni potete seguirci sul nostro portale tecnica della scuola un saluto a tutti alla prossima grazie a tutti grazie a tutti